Wolf Messing ha definito speciali questi tre segni zodiacali. Wolf Messing è una personalità mistica e leggendaria. Aveva molti talenti fuori dal controllo degli altri, guariva, predisse, esaminava i destini degli altri. Essendo un esperto di astrologia, Messing ha identificato tre segni zodiacali con qualità speciali. E chi è? Te lo dirò adesso. Prima di tutto, metti mi piace e iscriviti al mio canale. E cominciamo. 1. Bilancia. Messing ha definito questa costellazione un segno di contraddizioni. Ha detto che in qualche modo convivono in lui i simboli dell'uguaglianza e il desiderio di dominio esclusivo. 2. Ariete. Messing era stupito dal temperamento dell'Ariete e credeva che le persone di questo segno tendessero a indossare una maschera e sembrassero non essere chi sono veramente. 3. Acquario.